Per l'unico vero re, Aegon! Una settimana fa, mio marito era vivo. E il re a me era in pace. Sul suo letto di morte sapeva che una regina non sarebbe stata accettata. I sostenitori di Rhaenyra crederanno ciò che vogliono. Ma Viserys voleva Aegon come successore. Adesso non vogliono il bene del re a me, ma soddisfare il loro desiderio di vendetta. A chi complotta contro il re ripagherò l'offesa cento volte tanto. Io sono temibile quanto loro. Non sai che sacrifici sono stati fatti per metterti sul trono? Mio zio sarebbe una sfida gradita. Se esassi affrontarmi. Noi brevarremo e riporteremo la pace. Ma devi accettare il fatto che il cammino per la vittoria è un cammino di violenza. Bene. E guerra sia. Per tutta la vita mi sono sforzata di servire la mia casata e il re Ame. Ma non ne passo a nulla. Mostrate coraggio per l'unico vero re Eigo! No! 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 Grazie a tutti.